C'è non solo il problema oggi del ricambio generazionale, c'è il problema della fuga. Cioè i medici nel sistema che è stato creato, purtroppo, negli ultimi anni, non ci vogliono più stare, per cui noi assistiamo non solo ai pensionamenti per età, ma assistiamo alla fuga fisica dei professionisti che non vogliono più sottostare a delle regole, permettetemi, certe volte demenziali, che derivano dall'aver creato, e io credo che questo sia una specie di meccanismo proiettivo psicologico, cioè di aver proiettato sui medici tutte delle incombenze amministrative che di medico non hanno nulla. Allora, uno mi deve spiegare, perché in mezzo alla pandemia, con tutti i problemi che ci sono stati, sono uscite almeno tre note nuove, note prescrittive, che il medico praticamente per fare una prescrizione deve innescare un meccanismo burocratico con visite contro visite controlli, eccetera, eccetera, tutti sistemi che servono a controllare la spesa, che si dice servono a controllare la proprietà, eccetera, ma che in realtà sono solamente incombenze burocratiche in più. Allora, il dottore oggi vuole fare e tornare a fare il dottore. Se le aziende sanitarie, se la politica, se la gestione giustamente hanno delle necessità di controllare la proprietà di spesa, ma che prendano del personale amministrativo con dei fantastici algoritmi e che facciano tutti questi percorsi, non continuando a ribaltare sul medico delle incombenze che sono di fatto amministrative. E questo dai certificati, isolamenti, quarantenne, cioè è successo di tutto nella pandemia. Allora, è ovvio che ormai questo lavoro è diventato inattrattivo. E lo stesso principio purtroppo nel futuro, e lo sento sempre di più dai giovani, ed è questa la cosa preoccupante, e dovrebbe preoccupare le direzioni generali, perché ho letto nelle dichiarazioni che i giovani sono invece più, come dire, inclini a lavorare in strutture, vedi, case della salute, case della comunità, non le mi avere. Cioè, è vero fino a un certo punto. Nel senso che in alcuni casi si sono sicuramente, come ci sono anche adesso, tanti colleghi che sono disponibili e cercano nuovi modelli che siano, diciamo, una evoluzione, una rottura e siano qualcosa di più efficiente rispetto al passato. Ma questo non significa che uno voglia essere inquadrato nell'ambito della casa della salute, perché credo che se l'idea che si sono fatti, soprattutto certi manager, è quella, rischiamo poi di andare a sbattere il grugno, perché invece molti professionisti vogliono riappropriarsi della loro gestione professionale facendo il dottore e non l'impiegato amministrativo, sostanzialmente, perché hanno studiato per fare un'altra cosa. Grazie.